Grazie a tutti. Nel Movimento 5 Stelle tra ipotesi di nuove epurazioni e tentativi di ricompattamento. Tra i possibili espulsi c'è anche Federico Pizzarotti che ha convocato un incontro aperto a tutti per il 7 dicembre nella sua Parma. Il ministro Padoan in una intervista al Corriere della Sera sottolinea il ruolo avuto dall'Italia in Europa dove si è tornati a parlare di crescita e annuncia nuovi tagli delle tasse. Le abbiamo ridotte per 18 miliardi grazie anche al taglio delle spese. Continueremo su questa strada. Un incontro emozionante a tratti fuori dal protocollo. Quello tra Papa Francesco e il patriarca di Costantinopoli. Dai due è arrivata una supplica unanime alla piena comunione tra cattolici e ortodossi. Unità non vuol dire sottomissione. Le parole di Francesco. I primi test non stanno dando evidenze di una correlazione. Il ministro della salute Lorenzine invita ad evitare psicosi dopo le 12 morti sospette per i vaccini anti-influenziali. Poi avvisa rafforzeremo la vigilanza e le regioni avranno l'obbligo di comunicazione entro 24-48 ore. Impegni difficili per Juventus e Roma nella tredicesima giornata di campionato. Per i bianconeri alle 18 c'è il derby con il Torino. I giallorossi stasera ospitano l'Inter di Roberto Mancini. Nel pomeriggio spicca Milan Udinese. Negli anticipi di ieri vittorie del Sassuolo sul Verona 2-1 e pareggio senza gol tra Chievo e Lazio. Buongiorno, benvenuti al telegiornale della Sette e buona domenica. Oggi in primo piano ci sono i difficili equilibri all'interno della maggioranza e anche tra il governo e le opposizioni con cui il presidente del Consiglio Matteo Renzi deve comunque fare i conti per ridisegnare l'intera impalcatura dello Stato così come desidera. Sul piatto infatti ci sono le riforme costituzionali in primis ma anche la elezione del Presidente della Repubblica vista la volontà di Giorgio Napolitano di lasciare l'incarico a breve. Ecco allora che Silvio Berlusconi, forte del patto del Nazareno, aumenta il pressing. Parla di una campagna elettorale in corso e di una sostanziale mancanza di democrazia. Berlusconi ha aperto le danze sul Quirinale. Renzi non si sottrae. Intervistato da Repubblica il Presidente del Consiglio ribatte all'ultimatum del Cavaliere. Non tratto ora sul colle. Prima si vota l'Italicum. L'agenda non può essere dettata dal leader di Forza Italia che vorrebbe legare le sorti del patto del Nazareno all'accordo sul successore di Napolitano. Berlusconi ha fatto il nome di Giuliano Amato. Non esiste, risponde Renzi. L'Italicum è in aula a dicembre. Berlusconi si è impegnato con noi a dire sì al pacchetto con la riforma costituzionale entro gennaio. Io resto a quel patto e non cambio idea. Anche se, a dire il vero, i tempi sono molto stretti e sembra difficile completare a gennaio la corsa per approvare l'Italicum al Senato prima di un ritorno comunque alla Camera e le riforme costituzionali nella seconda di quattro letture a Montecitorio. La riforma elettorale prima dell'elezione del nuovo Presidente. Non mi pare che ci siano i tempi, dice infatti dal fronte berlusconiano Giovanni Totti che insiste sul nome di Giuliano Amato. è una riserva della Repubblica. Credo che debba restare in pista perché ha le qualità. Sul Quirinale comunque Renzi si rifiuta di fare nomi. Non apro una discussione finché Giorgio Napolitano ha il suo posto, dice comunque è bene che il Presidente della Repubblica si lega con la maggioranza più ampia possibile. Possibile, ripete due volte Renzi, come a dire che l'accordo può essere con Berlusconi come con i Cinque Stelle. Tramite i suoi poi il Presidente del Consiglio manda a dire a tutti che senza le riforme sarà inevitabile il voto anticipato da chiedere subito al prossimo capo dello Stato con il consultellum proporzionale con le preferenze non gradite per esempio a Forza Italia. Siamo già in campagna elettorale, alza le spalle Berlusconi, anche se non sappiamo, dice poco fa, se le elezioni si terranno in primavera con il consultellum o dopo con l'italicum. Altro messaggio di Renzi è il no a candidature divisive per il collo e il nuovo discrimine sarebbe quello di non riproporre candidati già bocciati da questo Parlamento. In sostanza è un no Romano Prodi vittima dei 101 traditori PD nel 2013 sul cui nome si sta già raggruppando un drappello di sostenitori dalla minoranza DEM a qualche frondista azzurro. Per non parlare dei grillini che potrebbero tornare in partita con il professore che era già tra i loro preferiti un anno e mezzo fa. Quirinale a parte Renzi non risparmia critica al sindacato, Camusso deve alzare la voce, dice, in vista dello sciopero generale. La nostra priorità è invece il merito delle cose. Rilanciare gli investimenti anche pubblici, insiste Renzi, ammettendo che il piano Juncker è sotto le sue aspettative e soprattutto apprende un probabile intervento pubblico per salvare l'ilva di Taranto. La risaniamo, dice, e poi la rimettiamo sul mercato. E tra le file dell'opposizione c'è il Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo alla ricerca di nuova linfa vitale, un rinnovamento che passa dalla nomina di un direttorio composto da cinque consiglieri ma anche da una nuova ondata di espulsioni. Il nuovo direttorio nominato da Grillo lo giudicherò dalle prime azioni ma soprattutto dalla posizione che prenderà sulle ultime due espulsioni che mi auguro vengano revocate. Toni Calmi ma decisi quelli dei Federico Pizzarotti, il sindaco ribelle di Parma, da tempo su posizioni molto critiche rispetto alla linea ufficiale del movimento imposta da Grillo e Casaleggio e quindi lui stesso a rischio e pur azione, un'eventualità che non lo sconvolge più di tanto. Sono certo che sarei l'ultimo a saperlo, sono molto tranquillo, se accadesse però vorrei conoscere le motivazioni, spiega Pizzarotti in un'intervista alla Repubblica dove ci tiene a mettere in chiaro di non essere a capo di nessuna corrente di dissidenti e che l'incontro di domenica prossima a Parma è stato pianificato da tempo ed è indirizzato soprattutto agli amministratori locali. Per questo ha invitato oltre a Grillo anche Massimo Artini, l'ultimo espulso fra i parlamentari insieme a Paola Pinna per irregolarità sulle rendicontazioni. Ma non sarebbero soli, la lista degli epurati potrebbe infatti allungarsi con i nomi di un'altra ventina di parlamentari fra senatori e deputati, colpevoli anche loro di non aver caricato i rimborsi online. Per mancanza di trasparenza sulla gestione del sito replicano i possibili epurati. Se venissero cacciati dal movimento il rischio di veder nascere nuovi gruppi parlamentari magari insieme ai vecchi fuoriusciti diventerebbe concreto. I mediatori stanno lavorando per far rientrare il pericolo. Il D-Day è fissato per mercoledì prossimo, il 3 dicembre, quando senatori e deputati 5 Stelle si confronteranno in un'assemblea congiunta. La riunione è stata indetta per creare un clima positivo e di serenità e per superare tutte le incomprensioni passate ripartire in maniera più compatta. Assicurato in una nota il capogruppo alla Camera Andrea Cecconi cercando di gettare acqua sul fuoco delle polemiche che in questi ultimi giorni stanno mettendo a dura prova i nermi dei pentastellati. Complice anche la nomina da parte di Grillo dei 5 fedelissimi che lo affiancheranno nella conduzione del movimento accolta con favore dalla rete ma indigesta a molti parlamentari. Il nuovo direttorio è vietato dal nostro non-statuto con questo muore l'anima movimentista dell'M5S spiega sulla stampa il senatore Francesco Molinari una delle voci più critiche. Lapidario è invece il giudizio del professor Paolo Becchi in tempi passati molto vicino ai 5 Stelle. Il direttorio è la prova del fallimento della democrazia diretta della rete ormai mera certificatrice di decisioni prese dall'alto. Il movimento resterà dentro le istituzioni ma ormai è destinato ad una lenta agonia. E ora l'iter della legge di stabilità che oggi dovrebbe ottenere il via libera della Camera per poi approdare in Senato. L'Italia non cresce e i disoccupati aumentano ma il ministro dell'economia professa ottimismo. La svolta, dice Giancarlo Padoan, sta per arrivare. Sarà aiutata, secondo l'ex capo economista dell'Ox e dalla legge di stabilità che oggi dovrebbe ottenere il via della Camera in attesa di cominciare l'iter al Senato. I nostri 18 miliardi di taglio delle tasse sono un segnale importante, dice Padoan, reso possibile dai tagli alla spesa. E aggiunge Jobs Act e riduzione del costo del lavoro vanno nella direzione giusta per stimolare la creazione di occupazione. E proprio per questo non abbiamo potuto allargare la platea degli 80 euro anche ai pensionati. Solo quando ricominceremo a crescere ci saranno più risorse da ridistribuire. Bruxelles questa volta non si può dire che sia stata matrigna con noi. Ci ha dato qualche mese di respiro. Inevitabile, dice il Ministro, ha capito che non si poteva continuare a strisciare sul fondo della crescita. E grazie anche alla Presidenza italiana che in Europa si sta finalmente parlando di investimenti. Abbiamo dato all'Italia il tempo per fare le riforme e gli risponde sulla stampa il Vice Presidente della Commissione Valdis Dombrovskis. Ci siamo appena insediati e non volevamo cominciare punendo i Paesi. La legge di stabilità, dicevamo, prosegue il percorso parlamentare dopo tre voti di fiducia alla Camera la prossima settimana sbarca in Senato dove però restano ancora parecchi nodi da sciogliere. E i più spinosi riguardano proprio il settore fiscale. La tassazione sui rendimenti dei fondi pensione ad esempio che nelle intenzioni del Governo doveva salire fino al 26% come una rendita qualsiasi. Adesso si sta valutando un alleggerimento considerandoli appunto un trattamento previdenziale. C'è poi tutto il capitolo local tax con Palazzo Chigi che vorrebbe arrivare all'obiettivo di separare nettamente i due livelli di tassazione quello locale e quello centrale con conseguente altrettanto netta separazione di responsabilità anche politiche. C'è poi il taglio dei trasferimenti alle regioni dovrebbe essere confermato sui 4 miliardi ma ci saranno delle misure compensative e bisognerà risolvere anche la questione degli ex dipendenti delle province. Mentre l'Italia arranca la ricerca degli spiccioli al di là delle montagne ci sono i vicini i ricchi svizzeri che tanto amano esprimersi per referendum ma oggi dunque tornano di nuovo al voto su temi che sono davvero lontani dalle nostre preoccupazioni. Una domenica come tante montagne e l'odore della neve che arriverà la passeggiata in centro e un referendum anzi tre. La Svizzera oggi vota lo fa spesso la sua referendum non è un'eccezione ma la regola di una convivenza democratica ricca convivenza per cui che cos'altro ci si può attendere dal paese che ha un reddito pro capite quasi tre volte il nostro? Un'iniziativa sull'oro simbolo di ricchezza è anche di potere un po' vecchia come idea ma l'oro è oro. La destra conservatrice alvetica vorrebbe che la Svizzera riacquistasse i suoi lingotti e aumentasse le sue riserve che sono per inciso le più grandi del mondo sempre se si ragiona pro capite. Oltre mille alle tonnellate nei forzieri della Svizzera anni fa erano il doppio la parte venduta finì in mano straniera in cambio Berna ricevette capitali esteri in quantità ma ora qualcuno ci ripensa più oro più potere questa sarebbe l'equazione con cui si critica la facilità con cui è stata invece stampata moneta di continuo senza un effettivo e verificabile aggancio del valore ai lingotti come insegnavano i libri d'economia perderanno pare anche perché il tema in Svizzera come da noi è che il franco ora è troppo forte e danneggia l'export ma vista sempre da noi da qui la storia sembra veramente una cosa da ricchi esattamente come il secondo quesito tema l'abolizione dei forfai fiscali proposto dalla sinistra che li considera benefici poco trasparenti tenta di scardinare il privilegio che ha reso la Svizzera il paese che è è possibile davvero immaginare che ci riesca no così come il Lussemburgo paese che ha dati Natalia Juncker e accordato tassazioni ridicola centinaia di multinazionali anche nostre la Svizzera campa esattamente di questo oltre che di orologio e cioccolata sono battaglie perse come la terza che chiama gli svizzeri a decidere sull'immigrazione ne hanno troppo e ne vogliono di meno ma attenzione non perché gli stranieri quelli poveri beninteso diano fastidio creino tensione di ordine pubblico xenofobia no semplicemente perché i promotori il movimento ecopop chiedono testualmente uno stop alla sovrappopolazione per il bene della conservazione delle basi naturali della vita capito? questione di preservazione anche delle stelle alpine per cui si torna alle montagne e all'aria che comincia a profumare di neve in una tranquilla domenica di voto molto svizzero dopo aver visitato uno dei luoghi più sacri a Istanbul dell'Islam oggi la moschea blu oggi Papa Bergoglio compie un altro passo importante quasi una svolta Bergoglio sceglie il paese crocevia di culture per tendere con profonda convinzione la mano alle chiese ortodosse dal fanar di Istanbul sotto le volte della cattedrale di San Giorgio arrivano inequivocabili e inedite le parole di Papa Francesco l'unica cosa che la chiesa cattolica desidera è che io ricerco come vescovo di Roma la chiesa che presede nella carità e la comunione con le chiese ortodosse una comunione spiega Bergoglio che non significa né sottomissione l'uno all'altro né assorbimento ma piuttosto accoglienza voglio assicurare a ciascuno di voi che per giungere alla meta sospirata della piena unità la chiesa cattolica non intende imporre alcune esigenze se non quella della professione della fede comune davanti al patriarca Bartolomeo a diplomatici fedeli rappresentanti di altre fedi Francesco pronuncia parole che sembrano colmare divisioni secolari per riportare la chiesa d'occidente e d'oriente alla comunione vissuta prima dello scisma un appello all'unità pienamente accolto da Bartolomeo che saluta Bergoglio come l'araldo della pace e della riconciliazione mai come oggi la possibilità di uno storico riavvicinamento tra cattolici e ortodossi è apparsa così vicina l'amicizia può più della teologia dice con forza e semplicità Bergoglio che chiede l'unità dei cristiani per superare la globalizzazione dell'indifferenza per dare voce agli umili per sconfiggere fame e povertà che alimentano la violenza e il terrorismo e il riferimento al fanatismo religioso ai massacri dell'Isis che insanguinano Siria e Iraq e lambiscono la Turchia è anche nelle parole di Bartolomeo non abbiamo più il lusso per agire da soli gli odierni persecutori dice il patriarca non chiedono a quale chiesa appartengano le loro vittime con parole e gesti tra liturgie e abbracci i capi delle due chiese ribadiscono da qui che l'ecumenismo non è fine a se stesso ma ogni passo verso l'unità è un passo significativo per il mondo per sconfiggere il terrorismo e far fiorire la pace resta ancora molto alta l'attenzione sul vaccino anti-influenzale dopo che alcune persone sono morte nelle ore immediatamente successive alla somministrazione del siero anche se il ministro della sanità ci tiene a sottolineare che nessun con esso è ancora stato stabilito e che non si deve in nessun modo fare inutili allarmismi e creare delle psicosi domani mattina a Londra si riuniranno gli esperti dell'agenzia europea del farmaco che ieri hanno aperto un'indagine sulle morti sospette dopo la somministrazione del vaccino anti-influenzale entro domani arriverà anche la relazione sulle analisi che il colosso farmaceutico Novartis ha fatto sul suo vaccino sotto accusa il Fluad il ministro della sanità Lorenzin dopo tre giorni di silenzio ieri ha ribadito che i primi test effettuati sul Fluad sono negativi ma per avere la certezza che tutto sia regolare bisognerà aspettare ancora quando cioè saranno pronti i risultati delle analisi effettuate dall'istituto superiore della sanità forse già martedì o mercoledì solo allora si saprà con assoluta certezza se davvero non ci sia alcun nesso tra i decessi e il farmaco come detto fino ad ora da tutte le autorità convolte compresa l'Agenzia Europea del Farmaco e quella italiana in attesa degli esami completi l'AIFA ha annunciato che i lotti su cui si hanno dei dubbi potrebbero però essere sei non solo cioè i due già bloccati per un totale di un milione e quattrocentomila dosi e che le morti sospette sono salite a dodici gli esperti però ribadiscono l'importanza delle vaccinazioni ogni anno in Italia muoiono 8.000 persone per le complicazioni legate proprio all'influenza a ribadirlo è stato anche il ministro della salute che si è scagliato contro gli enti locali ci sono stati forti ritardi sostiene la Lorenzin nelle segnalazioni da parte delle regioni all'Agenzia del Farmaco ritardi che in alcuni casi sono stati anche di 15 giorni ma il presidente della conferenza delle regioni Chiamparino ha duramente rispedito le accuse al mittente la Lorenzin ha detto pratica uno sport troppo diffuso quello dello scaricabarile così ora si tenta di correre a ripari di cambiare le norme che regolamentano il settore tentando di abbassare a 24 massimo 48 ore il limite imposto alle regioni per lanciare l'allerta l'ufficio legislativo del ministero vorrebbe introdurre la norma in un emendamento della legge di stabilità ed è davvero terribile quanto accaduto ad un bambino di 8 anni a Ragusa anche se non si conoscono le ragioni di una morte che non sembra però accidentale per questo gli inquirenti fanno appello a tutti coloro che potrebbero aver visto qualcosa un dettaglio un particolare un ricordo tutto ciò che potrebbe essere utile alle indagini in queste ore è prezioso contattate gli investigatori anche con segnalazioni anonime è la richiesta che il capo della mobile di Ragusa ed il comandante del nucleo investigativo dei carabinieri hanno rivolto ai cittadini di Santa Croce e Camerina e un testimone c'è si è fatta avanti una donna sarebbe lei l'ultima ad aver visto Andrea Loris Stival prima della scomparsa erano le 9 e 10 il bambino era poco lontano dalla scuola elementare Falcone Borsellino dove la madre Veronica l'aveva lasciato qualche minuto prima a pochi metri dal cancello la testimone dice che Andrea non aveva con sé lo zainetto che portava ogni mattina per andare a scuola zainetto che gli investigatori continuano a cercare da ieri pomeriggio da quando il corpo del piccolo Andrea è stato ritrovato nel canalone di cemento vicino ad un vecchio mulino in disuso a 4 chilometri dal paese molti forse troppi da fare a piedi da solo per un bambino di 8 anni dicono gli investigatori la testimonianza della donna al vaglio degli inquirenti ragusani nessuna ipotesi esclusa continuano a ripetere in attesa del referto dell'autopsia l'unico esame medico legale che può accertare le cause della morte un fatto cruento era stata la prima ipotesi e oggi gli inquirenti molto riservati sulle condizioni in cui è stato ritrovato il corpo ammettono che sul volto del bambino c'è un grosso ematoma intanto nella zona del ritrovamento continuano i sopralluoghi di polizia e carabinieri la madre di Andrea è stata sentita più volte dagli investigatori così il padre al suo ritorno di notte in paese l'uomo un giovane autotrasportatore è stato avvertito della morte del figlio mentre era in viaggio tra Roma e Napoli capire le frequentazioni del bambino dentro e fuori la scuola entrare con i genitori nel mondo di Andrea su questo adesso si concentra il lavoro degli inquirenti vediamo ora cosa accade all'estero perché come prevedibile il proscioglimento di Hosni Mubarak dall'accusa di complicità nell'omicidio di centinaia di giovani durante la primavera araba del 2011 ha provocato forti disordini e rivolte che sono già costate la vita ad altre persone almeno due morti nove feriti e una settantina di arresti è questo il bilancio ancora provvisorio negli scontri tra polizie e manifestanti che nella notte hanno infiammato le strade del Cairo almeno secondo il ministero della salute egiziano testimoni parlano di una terza persona ferita che sarebbe poi deceduta in ospedale a riaccendere la miccia delle proteste in piazza è stata la sentenza con cui ieri la corte d'assise ha prosciolto Hosni Mubarak dall'accusa di aver ordinato di sparare contro i manifestanti di piazza Tahir 239 sono morti durante l'inizio della rivolta nel gennaio del 2011 proprio intorno a quella piazza simbolo in cui tre anni fa esplose la violenza tra i sostenitori dell'allora presidente dell'Egitto e gli oppositori del regime i fratelli musulmani si sono dati appuntamento per contestare la decisione dei giudici ed è qui che per disperdere la folla la polizia ha usato prima gas lacrimogeni e cannoni ad acqua poi secondo alcuni armi da fuoco nell'agosto del 2013 la Cassazione aveva annullato la condanna all'ergassolo dell'86enne ex Rais per avere provocato la morte dei manifestanti ieri quindi il secondo processo sulla stessa vicenda ha completamente ribaltato il verdetto secondo il giudice l'escapo di stato che dal 1981 al 2001 ha guidato il paese non doveva essere processato una decisione commenta la tv del Qatar al Jazeera dovuta a un errore tecnico della procura dopo 30 anni di potere incontrastato lo ricordiamo le proteste di piazza Tahrir hanno costretto Mubarak a dimettersi il 2 febbraio del 2011 ma le speranze di democrazia alimentate dalla cosiddetta primavera araba sono tramontate quasi subito per l'inadeguatezza politica dei fratelli musulmani del presidente Morsi deposto il 3 luglio del 2013 e per il pugno duro del regime militare che ha imposto Al-Sisi alla guida dell'Egitto assolto ieri anche dalle accuse di corruzione il faraone Osni Mubarak è tornato nell'ospedale Madi dove ha scontato due terzi della pena a tre anni per sottrazione di fondi pubblici destinati ai restauri del palazzo presidenziale per il suo avvocato a questo punto potrebbe quindi tornare presto in libertà negli Stati Uniti a Ferguson le dimissioni del poliziotto responsabile della morte di un 18enne nero disarmato non placano la protesta dimissioni immediate senza alcuna possibilità di ripensamento lo aveva annunciato e lo ha fatto ha lasciato la polizia a Darren Wilson l'agente che il 9 agosto scorso a Ferguson Missouri uccise il 18enne afroamericano Michael Brown scatenando manifestazioni sfociate spesso in rivolte di piazza dopo la decisione del gran giurì di non incriminarlo l'agente ha deciso di lasciare e ha motivato la sua decisione con una lettera quel giorno ho fatto il mio lavoro la coscienza a posto ha scritto speravo di continuare a fare il mio mestiere ma la mia presenza in strada potrebbe mettere a rischio non solo me ma soprattutto i miei colleghi e la comunità spero che questo gesto serva a lenire le ferite e riportare la calma un augurio che sembra destinato a cadere nel vuoto la rabbia non si placa le manifestazioni si moltiplicano l'uccisione di Tamir Rice dodicenne afroamericano freddato da un poliziotto che lo aveva visto brandire una pistola giocattolo in un parco di Cleveland è stata altra benzina sul fuoco mentre ieri in molte città americane si organizzavano proteste sit-in flash mob davanti e dentro i centri commerciali in concomitanza con il Black Friday giorno dei grandi saldi che segue la festa del ringraziamento si metteva in movimento la grande marcia del cammino della giustizia durerà sette giorni è partita proprio dal luogo dove fu ucciso Brown la marcia coprirà quasi 200 chilometri da Ferguson punta sulla residenza del governatore di Jefferson City capitale del Missouri è stata organizzata dalla Lega Nazionale per il Progresso degli Afroamericani i manifestanti contano di aumentare di numero lungo il cammino e soprattutto chiedono le dimissioni del capo della polizia di Ferguson una riforma radicale della polizia e la fine della discriminazione razziale una richiesta quest'ultima che riporta indietro agli anni 60 come se in tutto questo tempo nulla fosse cambiato compreso un presidente nero alla Casa Bianca per il campionato di calcio in primo piano c'è la contesa di vertice tra Juventus e Roma con le possibili scorie degli impegni europei nelle gambe Juventus e Roma riprendono il loro duello a distanza alle 18 i bianconeri affronteranno il Torino in un derby che nelle ultime stagioni si è rivelato molto meno ostico del previsto ma le provocazioni settimanali da parte di Andrea Agnelli prima e John Elkampoi sembrano aver regalato stimoli ai Granata che da questa sfida che non vincono da ben 19 anni avranno tutto da guadagnare Allegri è tentato a riproporre il modulo Champions con l'asse di centrocampo Pirlo Vidal e con gli Orente che dovrebbe far coppia in attacco con l'insostituibile Tevez ma il tecnico non si fida di questo Torino e dispensa modestia in conferenza stampa avranno più fiducia in se stessi e ci daranno ci daranno battaglia e quindi non sarà assolutamente una partita semplice per noi per la Roma arriva invece quell'Inter cui Roberto Mancini sta cercando di dare un nuovo assetto tattico il successo in Europa League deve essere preso come un'iniezione di fiducia sulla sfondaggia a loro sei invece Rudy Garzia vuole cancellare l'amaro pareggio in quel di Mosca mettendo anche a tacere le polemiche sul dopo partita a luci rosse ed alcuni suoi giocatori per poi inviare un messaggio pungente alla Juve riguardo il suo vantaggio in classifica perché la Juve ha tre punti di più e sappiamo tutti come l'ha ottenuto questo tre punti di più Garzia recupera in un sol colpo Maicon e Young ambiva in difesa potendo così optare per varie soluzioni in tutti i reparti con cui attaccare i punti deboli dell'Inter La Roma può essere davanti in classifica ma noi siamo sempre l'Inter quindi l'Inter deve avere una mentalità di andarci a giocare sempre la partita anche rischiando di perderla Nei due anticipi di ieri importante vittoria per il Sassuolo capace di ribaltare un incontro che lo vedeva soccombere in casa contro il Verona tre punti che collocano addirittura gli Emiliani al fianco della coppia Milan-Udinese che oggi si sfiderà nel match pomeridiano a San Siro un punto ciascuno invece per Chievo e Lazio importantissimo per i Veneti nella lotta salvezza un po' meno per i Bianco Celesti che cercavano il pronto riscatto dopo due sconfitte consecutive Ora ci fermiamo per qualche minuto ma tra poco restate con noi perché vedremo se ci sono degli aggiornamenti Allora non ci sono aggiornamenti importanti rimanete però con noi perché molte altre notizie d'approfondimenti li troverete in TG Cronache che sta per cominciare e conduce Raffaella Di Rosa grazie per essere stati con noi e ancora una volta buona domenica grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti